Qui con Ceccio Vagliagli, ospite d'eccezione, un grande Bari, una grande impresa, con l'uomo in meno, che Bari hai visto? Il cuore ha risentito, però sicuramente la voglia di vincere questa partita è stata più forte anche dell'uomo in meno, perché tanto si sapeva che il Zutron non avrebbe giocato neanche il secondo tempo, se non alla fine, quindi è stata dura, però il Bari ha fatto la partita che doveva fare e fatta bene. A Bari l'atteggiamento era stato buono anche quello a Bolzano, quindi alla fine quando trovi le squadre così, tutte richiuse dietro, diventa complicato. Io credo che l'atteggiamento di Bari sia quello giusto, poi sarà il campo a dirci. Infine due parole per il pubblico del San Nicola, ha risposto alla grande, 51.000, sono stati il dodicesimo uomo in campo si può dire? Sono stati i brividi più grandi della serata in assoluto, ho la memoria e il telefono piena dei video che ho fatto, quindi sicuramente è uno spettacolo incredibile, solo va vissuto per capirlo. Grazie.